benvenuti a giro idea la nostra compagnia oasi e di tranquillità nel dinamico contesto milanese offre un ampio spazio creativo rafforzato dall'esperienza di 25 anni di servizi nel settore dal digitale alla grafica applicata dal web alla progettazione tridimensionale dalla gestione e creazione di applicazioni internet fino al video professionale e creativo nel nostro iter consolidato vi è la ricerca e lo sviluppo di proposte sempre nuove e sempre al passo con le vostre richieste visita il nostro sito o vieni di persona grazie grazie